I just want it Il prossimo anno, quando nel consueto appuntamento con lo spazio dedicato a Paolo Fox, la trasmissione di RAI 2 Mezzogiorno in Famiglia Intanto, però, già sappiamo qualcosa. Il 2019 secondo l'oroscopo di Paolo Fox sarà un anno caratterizzato dalle rotture In un'intervista al Corriere della Sera, l'astrologo ha anche indicato quali saranno i segni fortunati, quelli che saranno quindi risparmiati dall'ondata di negatività che si abbatterà sul nuovo anno Mamma mia che ansia, nel libro del 2019 l'astrologo si concentra, anche sulle coppie e svela. Il 2019 favorisce i cambiamenti radicali, le rotture E aggiunge. Se un elemento della coppia, è in difficoltà, può riversare la negatività nel rapporto La difficoltà del segno zodiacale di uno dei due è un rischio. Rappresenta un serio pericolo di frattura Ma quali saranno i segni più fortunati e quelli a cui andrà meno bene? Tra i segni zodiacali meno fortunati nel nuovo anno Paolo Fox indica il cancro, che dovrà fronteggiare molte difficoltà a causa dell'opposizione con Saturno Per i sagittari, sarà sicuramente un anno interessante, sono quelli che non si lasciano intimorire e si lanciano senza pensarci due volte Bene anche leone e pesci, soprattutto su fronte emozionale e familiare. Ma scendiamo nel dettaglio Ariete. Per l'Ariete. Per l'Ariete il senso di precarietà, che sta passando tenderà a scomparire Non perché arrivano conferme a lunga scadenza, ma perché non si dovrà più faticare per ottenere ciò che si desidera Il 2019 è un anno di nuove certezze.Toro. Non ci sarà più l'opposizione di Giove, e i nati sotto questo segno ritroveranno un buon assetto finanziario Punto gemelli. Ottimo anno. Specie sul fronte lavorativo, sul fronte amoroso notizie incerte. Resisteranno soltanto le storie che sono davvero importanti Cancro. Lo stato di incertezza regna sovrano? Avrete qualche discussione, se avete un capo che si oppone alle vostre idee Toleranza zero è il motto. Il cancro dovrà fronteggiare maggiori difficoltà a causa dell'opposizione con Saturno Leone. Uno dei segni più fortunati del 2019. Non mancheranno gioie e successi. Il 2019 sarà anche un anno utile per ritrovare la tanto attesa stabilità amorosa Vergine. Per i vergine l'importante è non esagerare soprattutto con le spese. La fine dell'anno soprattutto porterà delle bellissime notizie Punto bilancia. I dubbi dell'ultimo periodo non svaniranno all'istante, ma saranno sciolti nel corso del 2019 In estate avrete finalmente il coraggio di tagliare qualche ramo secco dalla vostra vita Scorpione. Non male. Lo scorpione dovrà ottimizzare le uscite visto che a fine 2018 ha avuto un po' le mani buccate Si potrà desiderare un trasferimento nel lavoro, che porterà il giusto riconoscimento dei propri meriti Sagittario? Il 2019 è il banno delle grandi trasformazioni, specie se si ha un'età tra i 30 e i 50 anni Stravolgere gli schemi è fondamentale, così come rimettersi in gioco.Capricorno Tra i protagonisti indiscussi, il Capricorno dovrà essere propositivo e positivo, mai rinunciatario Il sole splende, fidati.Acquario. Il 2019 è un anno importante per gli acquario, per cui le esperienze passate sono decisive per fare un balzo in avanti verso la realizzazione di un desiderio Pesci. Dovranno sfruttare tutte le chance che arrivano? Nel 2018 sono state gettate le basi per nuovi progetti, e, ora che Saturno è complice, bisogna approfittare Niente è impossibile Niente è un anno importante per gli acquario, per cui le esperienze passate sono state gettate le basi per la realizzazione di un'euro, per cui le esperienze passate